Partiti! Davanti a Shababek, Top System, Linus Pauli in commodo, Sadova Raized, Nautilia, Tarazet, Uttam, Affari Spenti e Bonita de Mas. Al termine della prima curva, in vantaggio Special Rush, Davanti a Shababek, Top System, Linus Pauli in commodo, Sadova Raized, Nautilia, Tarazet, Uttam, Affari Spenti e Bonita de Mas. Dopo mille metri di corsa, prosegue in vantaggio Special Rush, Davanti a Shababek, Top System, Linus Pauli in commodo, Sadova Raized, Tarazet, Nautilia, Affari Spenti, Uttam e Bonita de Mas. All'inizio della seconda curva, in vantaggio Special Rush, Davanti a Shababek, Top System, Linus Pauli in commodo, Sadova Raized, Tarazet, Nautilia, Affari Spenti, Uttam e Bonita de Mas. Poco prima dell'ingresso, Special Rush e Shababek, Conducono davanti a Top System, Linus Pauli, I cavalli entrano in dirittura, con Special Rush in vantaggio a centropista, Davanti a Shababek, Commodo, Top System, Linus Pauli, Tarazet allo steccato opposto, e in vantaggio Special Rush, Davanti a Tarazet allo steccato opposto, Top System, passa Tarazet con all'interno Special Rush e in vantaggio Tarazet davanti a Special Rush, Commodo e Top System. Grazie a tutti. Grazie a tutti.